Il maestro del cinema d'animazione Enzo D'Aloh torna in sala con un viaggio fantastico, una bambina ribelle e una nonna esplosiva. Io dico che voi non siete a livello della mia Mary. Così non mi aiuti, nonnina. Dopo l'indimenticabile La gabbianella e il gatto è la vita, Mary. Chi ti ha detto il mio nome? Una nuova meravigliosa storia aspetta solo di essere raccontata. C'è qualcuno che vorrebbe vederti. Ciao, Imer. Mary e lo spirito di mezzanotte. Da novembre, solo al cinema.